13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 13, 2, 1, 10 Lorenzo, in partenza niente, non timono proprio dove stanno a fare la Lorenzo? no, veramente, facciamo un po' di interferenza si? meglio, meglio, vai, vai vai, spalma, spalma stasera urlo questi si tolgono dalle palle dove vai a te? eh? dove vai? eh, sto a fare ripresa guarda azzurra eh signori, azzurra si impenna qua vediamo in seconda posizione azzurra tallonata da Ita24 tallonata proprio nel vero senso della parola è vero penalità per Ita24 no, la faccio dopo no, la riga di flotta la devi far subito no, la devi far subito ecco le due protagoniste facciamo tre addirittura quando ne hai quella? te conta? questo è l'ultimo giro to' raffigato è variabile del serbente azzurra vediamoci l'estate Lorenzo tanto ripreso non è che mi sembrava però